Se cerchi esclusività e qualità, se vuoi scegliere il tuo stile e distinguerti dalla massa, Ego è il posto giusto. Un vastissimo assortimento di abbigliamento secondo le ultime tendenze moda. Dal casual al tempo libero, dall'evento importante all'ufficio, in tutte le vestibilità e taglie. E come sempre, a vostra disposizione, il favoloso collaboratore di Ego, pronti a consigliarvi e a seguirvi nella scelta. Ricordate che ciò che è tanto bello non deve essere necessariamente sempre tanto caro, quindi venite a scoprire tutte le nostre offerte, promozioni e i nostri prezzi. Ti aspettiamo da Ego, a Vado Ligure, a 800 metri dall'uscita del casello di Savona, proprio ai piedi delle ciminiere. Visitate il sito egostore.it